Parla anche a retino la rappresentativa toscana di calcio femminile impegnata nel torneo delle regioni. La selezione regionale del calcio rosa si radunerà a Coverciano, al Museo del Calcio, a due passi dal centro tecnico dove la nazionale di Antonio Conte sta preparando i prossimi europei. Tra le convocate figurano anche tre aretine. Due sono le alfiere dell'Arezzo Calcio Femminile e in particolare Maria Costanza Terini e Lucia Teci. C'è poi anche la miglior marcatrice aretina del campionato di Serie C Toscana, un'attaccante da 18 gol a stagione come Lucia Ferrini, insignita pochi giorni fa proprio del riconoscimento come miglior bomber aretino della categoria durante l'ultimo grangala del calcio. Lucia, calciatrice del casentino calcio femminile, ha raggiunto insieme a Teci e a Terini il raduno della rappresentativa per poi intraprendere il viaggio verso Catanzaro, sede del torneo delle regioni. Le toscane sono state inserite nel girone con Liguria e Veneto. Negli altri raggruppamenti ecco Lombardia, Campania e Trento, ma anche Friuli, Emilia e Piemonte, oltre a Bolzano, Lazio e Abruzzo.